Edizione speciale del 9 marzo 2012 Io vorrei sapere se qualcuno di voi avessi intenzioni di non stare alle regole non è così non è così non è così voi non ci state delle regole voi fate i cazzi mostri cazzi mostri che non voi non vedevate come era passato era il tempo della dittatura a quel tempo era il fascismo fascismo scusate il fascismo non c'è nemmeno la libertà di stampa oh vi riemenate conto? cosa? è un successo non c'è 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 ... 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 Se lo vedi qualcuno, tenete la ricca. E in questo ambiente bisogna comportarsi come si deve e bisogna rispettare le regole. Non bisogna scrivere i banchi, non bisogna buttare per terra. Avete capito? Il materiale naturale. 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 domani 10 marzo 1-12 sei qualcuno di unice di Luca e questo video l'ho girato io sono il mio dispensato e subito io 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 non voglio conoscere le persone io mi fanno tanto bene, ma puoi vedere se realmente fare le cose giuste bene, bene, bene bene e chiediamo a parlare non solo ma anche a tutti avete capito? fatelo per me trovate una soluzione arriva ai testi io vi lascio ah no, non vi lascio io racchiudo questa sezione grazie grazie